Musica Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. Oggi siamo con il Vice Sindaco Assessore alla Bellezza, Daniele Vimini. Daniele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, entriamo nella bellezza, nel senso che mi sono preso un appunto, perché magari qualcuno sente questo titolo, questo nome, questa denominazione, ma non conosce magari, oppure se li è dimenticati, i dettagli. Una volta gli assessorati avevano un nome ben preciso, adesso invece c'è questi nomi molto evocativi, ma magari qualcuno è distratto. Allora, uno dei ruoli di Casa Rossini è anche quello di far conoscere un po' meglio. Allora, oltre al ruolo di Vice, ovvero di sostituto del Sindaco, quando il sostituto serve, perché il Sindaco è impegnato in altri incarichi e in altre attività, l'assessorato invece ha tre deleghe importanti, che poi diventano quattro, perché uno è cultura e turismo insieme, uno è gemellaggi e cooperazione internazionale, e l'altro è la ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari. Sembrano poche, ma ce n'è. Sì, sono abbastanza, intanto è una città come Pesaro che sta scoprendo negli ultimi anni quanto sia importante la cultura e il turismo, anche legati tra loro per la conoscenza della città e la promozione della città, e anche dal punto di vista economico, naturalmente. Inoltre, il tema della cooperazione internazionale dei gemellaggi aiutano assieme a tante altre reti internazionali di cui Pesaro fa parte, tra cui ad esempio l'UNESCO, grazie all'obiettivo raggiunto quattro anni fa, ma si potrebbe dire EuroCities e altri canali, appunto di essere in rete con città medio-grandi, a volte anche metropoli del resto d'Europa e del mondo, e che quindi è anche non solo un'occasione per confrontarsi con esperienze anche più grandi e diverse, ma anche proprio per entrare in relazione diretta con altre progettualità. La ricerca di fondi comunitari e nazionali vuol dire, insomma, coordinare un po' tutto l'inseguimento di bandi, quella famosa, il luogo comune che dice spendiamo molti più soldi di quelli che riusciamo a prendere, è un po' come quella che avevamo l'80% di patrimonio, perché è quello che dice noi abbiamo l'altro lato 80% che fa 160%. Esatto, a parte le battute è un lavoro importante da fare, da coordinare, proprio invece per prendere al meglio le opportunità di finanziamenti europei in particolar modo, lo è a prescindere dal PNRR e dalla situazione particolare, è anche entusiasmante da un certo punto di vista che le città stanno vivendo con queste opportunità di finanziamenti veramente mai viste, ma lo è anche nell'ordinario, perché ad esempio quest'anno è appena partito un nuovo settennato, non quello del Presidente della Repubblica, ma quello tra poco, ma quello dei sette anni di erogazione di finanziamenti europei dietro a progetti. E quindi anche quello è un lavoro da coordinare, che tra l'altro cerchiamo di fare non solo come città di Pesaro, ma anche guardando poi i comuni vicini per fare una strategia di insieme. Volendo semplificare, possiamo dire che abbiamo due fronti importanti, da una parte quello delle attività cittadine, poi si fondono chiaramente tra loro, da una parte quello delle attività cittadine che servono a costruire la sostanza, di quello che poi diventa l'argomento da proporre invece in ambito nazionale e internazionale, sia per creare attenzione, ma anche per creare attrazione. Tutto questo si fa con un bel lavoro di squadra però. Sì, assolutamente, infatti molto spesso capita di vedere me o qualcun altro un po' più esposto nelle questioni che vadano dalla musica al cinema, al teatro, ai libri, alle biblioteche, eccetera, ma c'è un grandissimo lavoro di squadra, di persone che ci lavorano da dentro l'amministrazione, dalle associazioni, da tante realtà che concorrono a questi obiettivi e che fanno in modo che a Pesaro, come dico spesso, tutto si tenga, no? Sia più facile tenere tutti insieme, sia più facile proporre delle cose, realizzarle con un lavoro di squadra, con il sostegno dell'amministrazione a volte, a volte anche con le proprie forze, poi dopo recuperare delle esperienze e valorizzarle. Insomma, è un po' quello che, diciamo, gli ingredienti che poi messi insieme fanno di Pesaro quasi un'unicità, alcuni nostri collaboratori che vengono da fuori, o altre esperienze, no? Si meravigliano come a Pesaro ci sia tutto, non ci sia tutto nel senso che non manca niente, però che se hai bisogno di alcuni ingredienti artistici o di contenuto per fare un progetto, che sia un montatore, un videomaker, un regista, un attrezzista, insomma, le professionalità ci sono tutte, perché tanto è una storia di secoli, ma che anche negli ultimi anni, insomma, sta rimettendo la creatività un po' al centro dell'azione della città. Questo è un po' il bello, no? Tutti i temi che presi individualmente vanno maneggiati singolarmente, uno per uno, ma che sanno di poter vivere una sorta di distretto. Esatto, esattamente, ed è uno degli elementi anche competitivi, se si può dire, più importanti, perché lo vediamo proprio in rete con altre città d'Italia e d'Europa, molte hanno delle eccellenze in una direzione o nell'altra, ma manca spesso quell'humus culturale fatto poi dalla passione dei cittadini, dalle istituzioni culturali, dalle università, da chi poi ci studia, ci lavora, insomma, e quindi è un'opportunità che Pesaro dà in più, e se ne stanno rendendo conto molti, perché Pesaro sta diventando sempre più attrattiva proprio per chi vuole lavorare nell'ambito culturale, artistico e anche turistico. Stiamo vedendo delle immagini, no? Mi viene subito una considerazione da fare. Stanno diventando sempre di più, anche perché stiamo e state imparando a comunicarle bene? Ma anche, diciamo, negli ultimi anni, anche prima del Covid, abbiamo cercato di fare uno scatto importante sul fronte della documentazione, no? Perché spesso si facevano delle cose, ci si accontentava, insomma, di parlare al pubblico presente e non ci si poneva il tema di a chi arriva questa cosa il giorno dopo, come si consolida, piuttosto che... un caso su tutti, mi rimette sempre alla mostra del cinema, no? Che è un vero e proprio iceberg, di cui il 99% della popolazione vede Piazza del Popolo e poi hai tantissimi momenti che si perdono come lacrime. Si perdono come lacrime e la pioggia. E invece, negli ultimi anni, non sull'integrale ovviamente, ma sui momenti, sull'essenza stessa di una manifestazione, no? Con delle clip che poi assomigliano un po' ai tempi vostri di racconto o anche al famigerato minuto di Instagram, no? Permettono invece di farsi un'idea e avvicinarsi magari la volta dopo alla manifestazione intera, per così dire, no? E questo è stato uno scatto che ovviamente poi tutto il periodo, no, del lockdown ci ha spinto a fare ancora di più. Anzi, a volte il racconto era esso stesso l'iniziativa perché avveniva, no? Ah, durante il lockdown si faceva qualcosa perché fosse raccontato. E anche lì, a proposito di creativi, di persone che lavorano in altre cose, c'è stato un incremento importante di lavoro per chi opera nel digitale, nel racconto, nel video, nella registrazione, nella documentazione, nella presa audio, eccetera, eccetera. E quindi anche da questo punto di vista abbiamo lanciato anche a livello nazionale la sfida di un paese che deve essere sempre più competitivo, proprio creando, attorno al tuo termine, distretti in cui sia più facile, più naturale, non solo fare cose belle sul palcoscenico, diciamo, per semplificarla, ma essere anche in grado, con la stessa qualità, di renderle visivamente e digitalmente, a volte in diretta, a volte in una documentazione che poi permette di dargli una vita anche più lunga. Perché poi in realtà gli eventi vengono veramente fatti. Io ricordo quando ci siamo confrontati in relazione al progetto Campopratica con altre realtà di altre città, la forza che per noi è quasi scontata di avere i famosi 500 eventi durante un'estate, lasciava a bocca aperta altre comuni, altre realtà che magari avevano focalizzato su una manifestazione importante, però poi che finiva lì, insomma, si sauriva in quello. Esatto, invece fare un elemento partecipativo e di crescita anche organizzativa è importante, perché poi a proposito di quella gemmazione, a proposito di quel valorizzare le amministrative che vengono anche da fuori dell'amministrazione, avere tanti cittadini che sanno come si fa, no? Banalmente, insomma, dal permesso alle norme che poi sono sempre più stringenti, soprattutto per la sicurezza, non solo Covid, ma anche gli ordini pubblico e altro, insomma, no? È una vera e propria palestra che poi crea una cultura, no? Cioè crea, come pesa una città di teatro molto più matura di altre città d'Italia, lo sta diventando anche rispetto alla creazione e organizzazione di eventi, proprio perché, ripeto, c'è una palestra continua. Allora, l'essere molto giovane, l'essere, io lo posso dire rispetto a me, e l'essere nato, cresciuto e vissuto a Pesaro, fa sì che la tua attività social sia un'attività anche personale, no? Tu sei presente sui social, come tanti di noi, hai il tuo profilo, attraverso il quale in certe occasioni rimbalzi attività istituzionali, ma nel quale racconti anche, alle volte, fatti familiari. Insomma, il profilo social come dovrebbe essere usato, no? Ma questo profilo social non è un vezzo solo, perché in realtà ci stiamo accorgendo che anche in ambito istituzionale, ma non solo locale, non solo per far sapere un po' cosa succede in Piazza del Popolo, i social cominciano ad avere una rilevanza. Faccio tutto sto preambolo per arrivare alla candidatura, a Capitale Europea della Cultura, che è una candidatura sostenuta a livello social, proprio dal punto di vista ministeriale, con una pagina ufficiale e con i click, eccetera, eccetera. Insomma, c'è di che riflettere. Assolutamente. Intanto, fammi dire una cosa, però. L'attività, soprattutto parliamo di cultura, l'utilismo della città, si trova prima ancora che nella mia pagina, su Pesaro Cultura, che è una pagina social molto seguita, dove peraltro non si parla mai di me, quindi anche se uno vuole prendersi un attimo di respiro rispetto alla figura politica, di come giusto che sia, di si parla di quello che accade. E lì ci sono veramente tantissime, e anche, diciamo, approfitto del mezzo televisivo, come si diceva, anche per chi cerca sempre quello che non c'è, come è normale che possa essere nella cultura, però invito intanto a fare un giro su Pesaro Cultura, perché si vede tutto quello che c'è, che non è quello che fa l'assessore, ma è quello che fanno tutte le realtà culturali della città, ed è non solo una vetrina importante, ma anche di documentazione, è un bel riferimento di tutto quello che si può trovare a Pesaro, non solo nell'ambito culturale, culturale e turistico. Detto questo, sì, io uso i social abbastanza, poi a volte ho anche i giorni in cui me ne tiro fuori, o perché non ho niente da dire, o perché a volte non sono dell'umore, proprio avendo una gestione abbastanza diretta dei contenuti di farlo. Poi io sono prevalentemente su Facebook, in Instagram, la pagina Instagram è una pagina un po' più personale, mia figlia dice tanto che su Facebook ci sono solo i vecchi, quindi a volte anche su Instagram metto qualche cosa. Ma ho aggiunto anche una cosa, quando andavo nelle scuole per campo pratica mi chiamavano prof, anche se non sono prof, noi su Facebook non ci siamo, perché più sono di vecchi che litigano. Esatto, esattamente, mentre su Instagram è più raro litigare, se non in qualche diretto c'è più attenzione, soprattutto è ancora più importante, è una cosa di bellezza, la nitidezza e anche la credibilità dell'immagine, perché ormai scorriamo le immagini in 30 secondi, neanche 30 secondi, in mezzo secondo, voglio dire. E quindi è importante colpire subito con quello che si vuole, e quindi ci stiamo attrezzando. Per la capitale italiana della cultura, a cui siamo candidati insieme a altre 23 città italiane, è molto importante il profilo social. Intanto perché, come dicevi, il Ministero stesso ha creato, sia su Instagram che su Facebook, delle pagine per raccontare le 23 città candidate, molto più facile l'anno scorso che la 64, quindi c'è anche più visibilità per noi che ci candidiamo e che proponiamo delle cose. Ma soprattutto anche quello nella pagina che abbiamo a nostra volta creato, ovviamente per raccontare quello che si sta facendo, anche quella diventa una bella documentazione, di tutto quello che c'è, dell'esistente, di quello che si può raccordare. L'altro giorno, per esempio, è stato molto apprezzato il fatto che da Pesaro raccontassimo il museo della batteria, che è una realtà straordinaria, non so se l'avete già visitata, anche come Rossini TV. A Farno, no? A Bellocchi di Farno, esatto. Intanto è un progetto provinciale, quello della capitale italiana 2024, quindi è il minimo che ne faccia parte anche quella realtà lì. Però, diciamo, riscorrendo quella, già impressionante come in un mese di contenuti, ci si è arrivato a tenere insieme tantissime realtà della provincia e della città, che uno magari spesso non conosceva. Ora c'è anche il sito, il vecchio antico sito, uno strumento, che sembra una cosa obsoleta, però abbiamo creato anche quello, che è Pesaro2024.it, e poi vedremo quanto questa corsa potrà essere supportata appunto dai cittadini, perché anche la presentazione delle 23 città, la nostra è la seconda più cliccata, diciamo, più condivisa a livello nazionale, anche quello avrà la sua influenza sulla giuria, perché chiaramente la giuria, che vuole valutare la qualità delle proposte, vuole valutare anche quanto una comunità si senta ingaggiata nella sfida, e valuta anche quello, e chiaramente se uno fa il posto in cui è presente la città, e su 100 abitanti ci sono gli insilaichi, magari è una cosa che frega solo al sine con l'assessore, per far bella figura, se invece si vede che c'è un alto livello di condivisione, è spontaneo, è sincero, si capisce quanto tutta una comunità cittadina e provinciale punti a un obiettivo, e quindi diventa non l'unico, ma sicuramente un elemento di valutazione. Allora, cerchiamo di dare un piccolo contributo anche noi con Casa Rossini, un paio di minuti per spiegare che la candidatura non punta a una targa, a un titolo messo lì, ma dà delle conseguenze, cioè chi ottiene il risultato di diventare capitale europea della cultura vive un anno importante. Sì, assolutamente, la capitale italiana 2024 è una sfida, ad ora la capitale italiana è ancora Parma, per qualche settimana, poi sarà Procci dal 2022, nel 2023 sono già state designate Bergamo e Brescia, anche come conseguenza, insomma, delle tante sofferenze di quel territorio, in particolar modo sul Covid, e si corre per il 2024. In passato tante città, Mantua su tutte, ma anche Palermo, tante altre città si sono fresate di questo titolo, che, come dicevi, non è solo un titolo, è anche un premio economico, cioè permette, diciamo, di mettere nella programmazione culturale della città a un milione di euro, ma non è solo quello, perché poi in realtà i programmi varranno molto di più in termini di lavoro, in termini di occupazione specifica, culturale, turistica, di ricaduta, di visibilità per la città, quindi, diciamo, è un anno di riflettori importanti che si mettono sulla città a livello nazionale e internazionale, e quindi è veramente un obiettivo importante qui tendere. Poi, l'obiettivo, anche se non dovessimo vincere, è fare come se avessimo vinto, nel senso di cercare di realizzare comunque la maggior parte di quei programmi, anche senza il contributo nazionale, e di far sì, soprattutto, che quella rete necessaria, di spinta di tante persone, di tante associazioni, di tanti artisti, di tanti creativi, esista comunque, si rafforzi, e soprattutto diventi un altro trappolino per l'altra competizione, per la quale ci sentiamo inghiaggiati, che è la capitale europea, questa volta, 2033, anche qui con Urbino, con tutto il territorio della provincia, il 2033 sembra molto lontano, come dice Ricci, nessuno di noi ci sarà, nel senso, nei ruoli attualmente occupati, però, è chiaro che è una sfida per i nostri figli, anche quella, e quindi, come si occuperà di cultura, o su che lavoro sarà cimentato, il ragazzo che adesso fa il mengaronio, che fa il classico, o che fa... Le medie. Sì, le medie, esatto, o anche, sì, ancora non ci deve pensare, su quale sarà da scegliere, magari sceglierà geometra, perché come vediamo adesso, c'è anche possibilità di fare tantissimo lavoro, sulla rigenerazione della città, no? È veramente una sfida, che prende corpo, e che, per noi, è appunto, un modo per tenere, come si dice, tu sei appassionato, anche di motori, più di me, insomma, un minimo alto, no? Che possa permettere di essere, pronti a raccogliere, nuove sfide, soprattutto, per fare, della cultura, e della creatività, un elemento di crescita, al pari, della produzione, del terziario, della parte industriale, artigianale del nostro territorio, ma fare anche di questo, una parte della nostra economia, e del benessere, per la nuova generazione. Certo, mi sa che mi ero allargato, e avevo parlato di capitale europea, già per il 2024, io mi ero già euforizzato, perché sono due sfide, collegate, e nella mia testa, le avevo fuse. Sì, ma anche perché il 2033, non inizia nel 2030, ma poi, ma poi arriva, io me lo ricordo come fosse ieri, quando si parlava, della famosa 2020, no? Esatto. convegni, sembrava, eh, già parliamo, l'anno scorso era, per cui, per non dire poi di quando parliamo del futuro. O l'agenda 2030, esatto. O il futuro che veniva nel 2000, 21 anni fa. Allora, siamo nell'imminenza del Natale, quest'anno un Natale delicato, abbiamo veramente pochissimi minuti, anzi uno, per dire che è un Natale delicato, ma al quale però l'amministrazione non rinuncia. No, non avrebbe senso rinunciare a Natale, se non proprio costretti, come nei momenti anche drammatici dell'anno scorso, ora abbiamo il vaccino che ci dà, non solo una speranza, ma una realtà in più di contrasto forte alla pandemia, è chiaro, lavorando sempre perché più persone, fino alla quasi totalità, possano crederci e contribuire, senza egoismi, a questa grande sfida, ed è per questo che comunque il Natale è salvo, nel senso che si è scelto di fare un Natale più diffuso, senza le concentrazioni, anche rischiose, senza senso in questo momento, di Piazza del Popolo, che conoscevamo, ma con non solo l'albero, le luminarie, ma anche il villaggio di Vabbo Natale, che è una vera e propria eccellenza, che invita a visitare in Piazza del Matteo, in corrispondenza di Rocca Costanza, insomma un modo più diffuso, qualche anno fa si sarebbe detto più slow, di vivere il Natale, ma non meno prezioso, anzi magari siamo un po' a riparo ad alcune frenesie, anche aiutandoci a riscoprirne un po' il senso vero, ma anche con la consapevolezza, che è un momento su cui agliettare, su cui far sentire anche più sereni i cittadini, quindi vale la pena uno sforzo in più per tenere insieme rigore, sicurezza, ma anche bellezza e spirito natalizio. In chiusura mi sono appuntato una parola che è effervescente, ho avuto questa sensazione nel preparare questa chiacchierata, ma che ritorna ogni volta che penso alla nostra città, una città talmente effervescente nelle proposte, che stimola anche i privati, le associazioni, a fare la loro proposta, che poi, sapendo che poi viene in qualche modo sostenuta anche dall'amministrazione. Sì, assolutamente, sono abbattute, effervescenti ma non gasati. Esatto, bella, la segnavo da qualche parte. Sì, è quello, io penso che, faccio sempre l'esempio del riconoscimento UNESCO, Pesaro poteva essere città UNESCO della musica 10 anni fa o mai, a seconda di come tu riesci a raccontarti all'esterno, e la volta che siamo riusciti in questo obiettivo, nel 2017 è stato perché, facendo tesoro anche delle candidature presidenti, però siamo riusciti a raccontare una moltitudine che c'era, che andava resa protagonista, andava fatto capire quanto essi stessi siano importanti per lo scenario nazionale e internazionale, e via dicendo. e quindi dando cittadinanza, come si dice, a delle istanze, a delle proposte, si riesce a fare veramente molto di più, anche perché poi, diciamo, il compito di un'amministrazione non è quello di creare eventi, i suoi eventi in prima persona, ma anzi di accogliere, soprattutto di creare le migliori condizioni di partenza, come stiamo cercando di fare, ad esempio, con la ristrutturazione, la messa a disposizione di sempre più spazi artistici, teatrali, di aggregazione, per fare in modo che costi sempre meno e sia sempre più di qualità fare produzione culturale per tante realtà che vogliono cimentarci, oltre a quelle che già conosciamo, che naturalmente meritano tutto il sostegno di cui siamo in grado. E quindi, ecco, questa è un po' la modalità, il mood, come si dice adesso, che cerchiamo di portare avanti e speriamo, appunto, che lavorando bene gli investimenti di questi anni possano portarci veramente a una città sempre più praticabile ed effervescente per tutti quelli che vogliono fare della creatività anche la propria ragione economica di vita. Perfetto. Allora, abbiamo sforato di qualche istante ma meritava perché di cose da dire ce n'erano veramente tante. Oggi è stato con noi il vice sindaco e l'assessore della bellezza Daniele Vimini che noi ringraziamo per averci dato questa bella panoramica e ringraziamo naturalmente i telespettatori di Rossini TV per aver seguito Casa Rossini e per essere sempre così fedeli ai programmi della nostra emittente. Ancora grazie a Daniele e l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.